oh eccola lì eccola lì guardate che spettacolo parlo piano perché è una creatura molto molto sensibile ma questa è la mia prima primissima natrice tessellata natrix tessellata pensate non l'ho mai vista in vita mia e voglio condividere con voi questo momento magico siamo venuti su questo fiume apposta per trovarla e sono davvero felicissimo di vederla guardate che spettacolo di animale la natrice tessellata è la natrice con le abitudini più acquatiche di tutti i serpenti italiani tra le natrice la più acquatica di tutte tranquilla gioia scusami e lei caccia pesci e anfibi ma principalmente pesci lei è una divoratrice di pesci può rimanere in apnea per diversi minuti e scivola letteralmente come un dragone grazie a queste squame carenate cioè che non sono lisce ma sono ruvide e gli consentono di ridurre l'attrito nell'acqua bisogna amare bisogna proteggere questi animali e quando li vedete in natura non dovete ucciderli non dovete spaventarvi perché queste sono creature davvero straordinarie che meritano di vivere con rispetto e protezione ambientale è uno dei miei sogni la natrice tessellata da tutta la mia vita eccola qua e ora nuoterò insieme a lei la libereremo pronti si ritorna a casa guardate in acqua da il meglio di sé sembra un'anaconda ed è un onore stare con lei in acqua e ora se ne va si nasconde in mezzo all'erba ma guardate che spettacolo le sue spire ciao dolcezza buona vita